Eccoci qua, questo sta rovinando le tue possibilità di avere una relazione. Prima di affrontare il tema iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base. Condizione Mirata, abbonamento top, condizione mirata e videoregistrazioni seminari da vive, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica e ti ricordo che con l'abbonamento Master Consulting interagirai direttamente con me per cui elaboreremo le strategie migliori affinché tu possa conquistare e sedurre la persona che ti interessa. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. Questo ti sta rovinando le tue possibilità di avere una relazione. Allora, che cos'è che rovina maggiormente le possibilità di avere una relazione? È purtroppo il nostro bisogno, la nostra distonia tra sfera logica e sfera emotiva. Più lavoriamo su noi stessi, diciamo, più siamo equilibrati, più siamo in armonia, più attiriamo partner migliori. Partner che sono, tra virgolette, la persona giusta. E infatti vale detto che prima di cercare la persona giusta dobbiamo diventare noi la persona giusta. Cosa vuol dire diventare la persona giusta? Vuol dire che devi creare armonia tra la tua sfera logica e la sfera emozionale. Perché se non c'è armonia tende a prevalere la sfera emotiva. E siccome sfera logica e sfera emotiva normalmente, diciamo, come dire, possono avere delle esigenze completamente diverse. Possono avere delle esigenze diametralmente opposte. E tra l'altro è la parte logica che soffre quando le cose vanno male. E la parte logica che soffre quando, come dire, non c'è, quando non ottieni quello che vuoi ottenere. E la parte logica che soffre quando hai dei sogni frustrati. E la parte logica che soffre quando ti senti incapace, impedito. Mentre la parte emotiva potrebbe tranquillamente godersi le emozioni. Perché la nostra sfera emotiva va costantemente alla ricerca di tensioni emozionali. Per la nostra parte emotiva matrimonio e funerale sono fondamentalmente la stessa cosa. Per la nostra parte emotiva non c'è differenza tra matrimonio e funerale. La nostra parte emotiva vive e si nutre di tensioni, vive e si nutre di emozioni. Per cui per la nostra sfera emotiva va benissimo sia il matrimonio sia il funerale. Fondamentalmente potremmo anche dire che il funerale dà emozioni più forti. Pensa quando tu hai fatto dei viaggi, magari hai fatto tanti viaggi in aereo magari. Sì, saranno stati belli, piacevoli, ma piano piano te li dimentichi. Invece quell'unico viaggio in cui l'aereo hai rischiato di cadere, tu hai rischiato di morire, diciamo, quella paura, quella tensione emozionale te la porterai sempre dentro e questo farà sì che tu ti coinvolgerai, tu ti innamorerai proprio, diciamo, di chi ti farà vivere tensioni forti, forti tensioni emotive. Potremmo dire che questa tensione resta psicoincisa dentro di noi. Ecco quindi che dentro ognuno di noi ci sono delle emozioni. che sono legate alle sofferenze. Perché la nostra parte, diciamo, il nostro sistema mentale, chiamiamolo così, tende a mettere in atto dopo un po', quando la sofferenza diventa molto forte, tende a mettere in atto dei meccanismi per preservare dalla sofferenza. E questi meccanismi sono meccanismi, diciamo, di difesa, che cercano in tutti i modi di difenderci dalla sofferenza. È ovvio che quando questa sofferenza, però, diventa eccessivamente forte, non c'è più meccanismo di difesa che tenga. Oppure quando, diciamo, arriva qualcuno che analogicamente va a disotterrare lo zombie che stava nascosto. Mi spiego meglio. Se da bambini abbiamo sofferto tanto per la paura dell'abbandono, perché magari temevamo che i nostri genitori ci abbandonassero, ovviamente non era necessario che veramente volessero abbandonarci, ma è la nostra percezione, è la percezione di un bambino. Dobbiamo renderci conto che quando eravamo bambini, ovviamente eravamo molto più fragili di come siamo adesso. E quindi i bambini possono viversi delle paure, possono viversi delle ansie, possono viversi delle preoccupazioni. Per un bambino è cosa, diciamo, non dico naturale, ma è un qualcosa che può accadere frequentemente, quello di viversi ansie, preoccupazioni, paure. Proprio perché, essendo piccolo, tra virgolette, non riesce a... E quindi magari ha sperimentato l'abbandono e questo gli ha... perché magari temeva che i genitori volessero lasciarlo. Magari aveva sentito litigare i genitori, ecco, aveva sentito... ha temuto questo e quindi questa paura gli ha generato un'ansia, una preoccupazione, una prensione molto forte per cui il suo meccanismo di difesa è intervenuto, il tuo meccanismo di difesa è intervenuto e ti ha nascosto questa paura dell'abbandono. Quindi non hai più provato paura, ma la paura è rimasta dentro, spingendo fuori per voler emergere, diciamo così. E allora, quando poi un giorno arriverà una persona che in qualche modo, insomma, per il suo modo di fare, per il suo comportamento, per il suo, come dire, atteggiamento, va a dissotterrare questa emozione già precedentemente compressa, in questo caso la paura dell'abbandono, perché non tutti quelli che magari ti vogliono far vivere l'abbandono tu lo vivi, perché non ti agganciano, no? Ma c'è quello che per qualche motivo, analogicamente, ha un comportamento simile, o un atteggiamento simile, tu lo analogicamente lo identifichi col genitore che ti va a dover vivere l'abbandono e in più ti fa vivere l'abbandono per il suo atteggiamento, ti fa vivere l'abbandono in quel particolare modo e tu ti innamori di quella persona. Cioè non tu come sfera logica. Anzi, questo rovinerà la tua relazione, perché tu come sfera logica resterai coinvolto, ma perché la parte emotiva sarà coinvolta, ma la parte logica percepirà sofferenza. Quindi la relazione andrà avanti basata sulla sofferenza. E quindi cosa c'è di peggio di vivere una relazione basata sulla sofferenza? Quindi trovare l'armonia interiore cosa vuol dire? Beh, intanto essere consapevoli che ci sono questi meccanismi. La consapevolezza è il primo punto, come dire, il primo fatto fondamentale che tu devi, di cui renderti conto. Se non c'è consapevolezza, beh, è ovvio che non puoi fare niente. Poi dopo imparare tu, in generale, col tuo comportamento, a somministrati delle emozioni che piacciono anche alla parte emotiva. Perché dicevamo, immagina la parte emotiva come un serbatoio che ha bisogno di quel tot di emozioni. Ora, se tu non gliele dai, andrà a cercare, fin tanto che non troverà quella persona che appunto per questi meccanismi li genera emozioni. Un po' come un cane da guardia che se tu non gli dai da mangiare, la polpetta buona, non aspetterà l'ora. Appena arriverà un ladro che gli butterà la polpetta venata, si mangerà pure la polpetta venata, perché ha fame. Se tu sei assetato, stai nel deserto, e quando esci fuori, otterrai una pozzanghera di acqua sporca, non è che dici, no, io solo acqua pulita, altrimenti niente, anzi, anche con una fettina di ghiaccio. Oppure non bevo. No, bevi e come? Perché? Spinto dalla seta. Allora, se spinto dalla fame, di emozioni, nella tua parte emotiva andrà a cercarsi emozioni nascoste, emozioni compresse. Per questo motivo tu devi imparare a, diciamo, a superare questi blocchi, superare queste impasse, e imparare a somministrarti delle emozioni attraverso degli atti di coraggio. Quello che consiglio io sono proprio gli atti di coraggio. L'atto di coraggio è fare qualcosa che ti dà adrenalina, che ti dà emozione, senza danneggiarti, ovviamente, ma anziché avere l'imbarazzo della scelta, fare la scelta dell'imbarazzo. Ecco, in questo modo creerai una, diciamo, un'unione tra parte logica e parte emotiva e non rovinerai le tue relazioni, perché automaticamente non ti aggancerai alle persone negative, ma ti aggancerai soltanto alle persone positive. Più riuscirai a fare questo, più diventerai la persona giusta e quindi, di conseguenza, tirerai le persone giuste, perché il presupposto è questo, che la persona giusta tira le persone giuste, se diventi la persona giusta. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco ufficiale, e seguimi su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, con il computer, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E ti ricordo che su questo canale ci sono quattro livelli di abbonamento, abbonamento live, per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video, registrazioni, seminari dal vivo, e abbonamento Master Consulting, con in più una consulenza telefonica. E ti ricordo che l'abbonamento Master Consulting ti dà proprio la possibilità di interagire direttamente con me, a telefono, quindi potrai sviluppare tutte le strategie migliori di seduzione per coinvolgere e far innamorare la persona che ti interessa. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!